Poi c'è, ci sono qui praticamente questi fori perché il corpo si solleva e veniva qui l'equale e arrivava qui e qui si discredeva, qui c'è una specie di ara con una croce, qui ci sono le gambe, qui ci sono delle varie, è particolare insomma. 1932, perciò è stato visto di recente ed è ancora così, io l'ho visto 5 mesi fa è ancora così, e questa è la cappella com'era prima del restauro, che era veramente una cosa, qui c'erano tutti gli ex vuoto, vedete, qui c'erano tutte le candele, ed era molto affumicata, non si vede più.